Un errore macroscopico, sottovalutazioni e soprattutto una sentenza, quella d'appello, caratterizzata da incompletezza, manifesta, illogicità e contraddittorietà. È con queste motivazioni che la terza sezione penale della Cassazione ha smontato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che lo scorso 28 luglio aveva assolto due giovani aretini, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, per la morte di Martina Rossi. La giovane studentessa Ligure, precipitata all'alba del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca, dove si trovava in vacanza con le amiche. In primo grado, i due giovani erano stati condannati a sei anni di reclusione per tentata violenza sessuale e morte come conseguenza di altro reato, sentenza poi ribaltata in appello con la formula perché il fatto non sussiste dall'accusa di tentata violenza sessuale, mentre era stata dichiarata prescritta quella di morte come conseguenza di altro reato. La Cassazione adesso evidenzia l'incompletezza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della sentenza, priva, scrivono, di una visione sistematica dell'intero quadro istruttorio e non esaustiva e osservante dei principi giurisprudenziali. Nelle motivazioni della decisione, oltre 70 pagine, la Cassazione infatti analizza il percorso che ha portato a decisioni opposte nei precedenti due gradi di giudizio. Secondo la Corte, dunque, i giudici d'appello sono caduti in un macroscopico errore visivo nell'individuazione del punto di caduta che li ha indotti a credere che Martina avesse scavalcato il parapetto ed hanno così depotenziato tutti gli altri elementi fattuali certi e la portata delle altre circostanze indizianti certe. Hanno ritenuto valida l'ipotesi avanzata dalle difese su un possibile suicidio sulla base di indizi sulla personalità della ragazza, che invece in primo grado non erano stati ritenuti certi, senza fornire una spiegazione del perché la ragazza fosse precipitata senza pantaloncini del pigiama. Già solo tale mancanza inficia irrimediabilmente la tenuta logico-argomentativa della decisione. Ma aggiunge poi la Corte, la più evidente carenza di analisi è quella relativa alle intercettazioni del 7 febbraio 2012 in cui sembra che i due giovani aretini manifestino sollievo per il fatto che non fossero stati trovati segni di violenza sul corpo di Martina. La Cassazione ha dunque annullato con rinvio ad un nuovo appello.